Ciao, sono Lorenzo, sono uno studente di veterinaria, vengo qui alla scuolina romana da quattro anni e vengo per aiutare i bambini a crescere e ho scoperto che anche loro aiutano a crescere meglio. Ciao, io sono Mamo Matthew X e vengo alla scuolina e vengo a dare agli sole perché mi arrivo a far stupire le persone con le mie margine. Vi consiglio di venire qua perché noi trasformiamo il bronzo in agente. Ciao, ciao mi chiamo Sara e vengo alla scuolina per aiutare gli altri ragazzi. Ciao, sono Angela, anche detta Mammoth e mi piace venire alla scuolina perché ci sto bene e perché diamo una mano a eliminare il mondo. Ciao! Noi siamo Ritika e Adman e veniamo alla scuolina a raggi di sole per fare i compiti diventendoci. Io sono Chiara e tu mi è me. Veniamo alla scuolina per raccontare storie ed animarle come Lulù, il fiore tutto blu. Ciao, sono Fabio, vengo alla scuolina a raggi di sole perché posso mettere la mia esperienza nello spettacolo e nello sport a disposizione per gli altri. Ciao! Salve, sono Alessia Piccinini e insegno italiano agli stranieri. E sono venuta anche alla scuolina proprio per insegnare e aiutare i ragazzi e gli adulti a esprimere i loro bisogni e i loro desideri e emozioni. Ti aspettiamo alla scuolina a raggi di sole perché... E' Ritika il mondo!